Lussi, bentornati, Krik, grazie di sub, anche grazie del sub giftato, Mariano, Tone, Joseph, Cappatoio, Andri, Lorenzo, Gigi, Fab, Dani e Tiaz, bentornati e benvenuti, Franci, grazie di Bitnast, grazie per il ricerto. C'è su di me? Ok, ci sono, scusa. E dovresti avere, c'è tipo, a trova la richiesta. Te l'ho mandata in. Tinta alla barba del marzone. Vabbè, potete uscire da qua. Eh? No, no, dica, c'è uno. Jujutsu Kaisen, invece. Sì, sì, c'è uno che non è che si è fatto. Ok, grazie per due, bentornato. Allungio, menu principale. No, andate al menu principale, aspetta che vedo se vi ho negli amici, amici di Tekken, Bimbo Blur, ce l'ho. Bene, manco male, bene, manco male, bene, manco male. Ma devo impostare le cose, perché qua io vedo 59 frame, vomito. No, è il massimo, non va più di più. Perché sennò chi c'ha il pc più forte è... Ebbè, allora vai a lavorare, sono cazzi tuoi. Non ti devo vedere. No, a mo' dove fa un cazzo. La tua richiesta di amicizia è stata accettata. Ok, vi ho tutti, mo' creo la lobby, vi invito. Grazie. E come si fa? Cazzo vuoi, mi taglio. Crea sessione. Slot privati. Solo uno. Ah no, perché perché? Vai, vai, server privato. Preto. Lo dico da una sola volta. Ah sì, io sento di potermela giocare. Basta che non mi dà panda. Un personaggio non mi deve dare nel casuale. Ah, dovevamo scegliere random? Ma tanto non so giocare. Ehi, sì. Bentornato. Ah, ma è invitato Fazzolo. Giamo puoi chiedere al maestro. No, è stato invitato. Mi piace il G. Ti aspetto. Partito di buono che ha bentornato, Faber, grazie per il mio sab. IS5. Tra le tante cose del Bim Brulee, devi anche metterci quattro bacche di Ginepro. Bello. Assolutamente sì. Invito amico. Ma è vero, eh. G l'ha bentornato, Faber, grazie per i due. Francia, grazie per i due. Grazie per i due. Grazie per i due. Scaru Greg e Wada, bentornati. Fini, grazie per i due. Invitato speziale. Lampredotto, bentornato. Ah no, amici teccan, eccovi qua. Ginepro è stato giusto. Bimbo Blur. Si vince, si vince, si domina, si domina, si domina. Vi ho invitato. Si domina, si domina, si domina. Dove è entrato? Ma sta facendo un countdown. No, non succede niente. Premi R2. R2? Ok. Come facciamo? Come facciamo ad accettare l'invito dal gioco, Fazzo? Come si fa? Infatti? Non lo so. Perché a me mi arriva la roba su Sima. Ah, forse sotto, tipo community. Vai su community, per se c'è qualcosa. Elenco notifiche? Sì, community. Elenco notifiche, invita una partita, uniscite. Elenco notifiche, giusto? Bravo, bello. Bene, 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 bene. E mo, Jammo, fai... Ah, sì, dai. Fai, non lo so, se vuoi fare dei match-up, come lo vogliamo organizzare. Grazie. Cioè, perché? Ma che possiamo fare qui, precisamente, come roba? Eh, niente, 1v1. Allora, ci sono due stanze in sta lobby. Ho Jammo una domanda, ma ti piacciono liceo. Quindi possiamo fare magari un 1v1 e nell'altra stanza un altro 1v1 e poi chi vince si scontra tra di loro, tipo. Sì, se vuoi lo giro sulla ruota al volo. Eh, vai, vai. Magari se non vi va di cambiare tutte le scene un'altra volta lo faccio al volo io. Just the Marzibus. No, ora sto, ti devi sparare. Allora, sto a girare. Uscite il fazzone. Sì. Per fazzone. Ruota. Per fazzone contro. E vado a levare un attimo il maestro, così che... Perché bimbo blu? Cos'è sta storia? No, non cliccate in niente. Tranquilli, non parto in cazzo. No, vi chiamo random. Leo, grazie per i 27, bentornato. Allora, una lobby è composta da il fazzone contro me e l'altra dal masseo contro il maestro. Ajime, grazie dei quattro. Oh mamma mia. Per arrivare fino in fondo bisogna combattere e vincere contro i grandi. Da subito. Ma devo far partecipare alla battaglia, fazzone? No, no, fermo. Chi è uscito? Io contro di te e il masseo contro il maestro. Allora, Giammo, vieni su B? Sì, ok. E della Mazzò premi R2 e vai contro il masseo. Deve entrare qua Edoardo. No, ci sai, devi togliere Ressa. No, eccoci qua. Ok, fate partecipa alla battaglia. Ok. Allora, se vincono tutte e due quelli di una squadra, è inutile fare la finale, regalo. Vogliamo fare... Allora, senti un attimo. Vogliamo fare... Perché MoQui mi ha fatto mettere... Non so se lo posso cambiare. Best of 5, chi ne vince tre? Ho tre... Cioè, la partita finisce chi vince tre round. Vogliamo farle... Che ne facciamo... Che ne facciamo... 5 magari presto. 5 facciamo... Chi ne vince prima tre? Mi ha dato... Ricordami quanto tempo c'è messo un calosco o nulla io. Ha aperto un'ombra. Casuale, lui è un calosco o 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 un calosco. Porco Dio! Ah, Reina! Questa troia! È rotta? È difficilissima, tipo. Ho capito. Ma che ne so? Ma che ne so? Dai, fanzo, porco Dio! Ma perché? Perché sai tutte le mosse di questo ciocco di merda? C'è un calosco o un calosco o un calosco o un calosco? Eh, porco Dio, ma che è tostata, oh? Eh, si foda. Porco Dio! Aia! E la Reina, madonna! Dio! Brutta figura, bruttissima figura. Sì, vabbè, sì. Ma non pare un caldo! Ma non pare! Ma non pare, porco Dio! Ma non vale! No, mi ha fatto la faglia! Il bastardo! Wuhuu! Ma non è mai cazzo! Ma che cazzo stupide è? Ma che cazzo è? Free Eren, zio porco! Ma che è? Ma che ti fa? Oddio, foto! Foto ricordo! Ringrazia che non fa l'alta esultanza, che fa una cosa veramente con un bel braccio teso. Che basta! Vabbè, ragazzi, ma che devi fare? Come sta andando, Marzò? 1-1! Vai, Marzò, pista! Cazzo! Chi ci dà adesso? Casuale! Ma vaffanculo! Però, porco Dio! Eren è difficile da usare, me da Steve! Ma dai! Steve Fox! Steve, ancora più difficile da usare! Marco, si può ben tornati! No, la puttana bionda! Mamma mia, che figa! Che c'è cosa è merda, porco Dio! Manca un muro, Dio, cane! Vai, Marzò! Serve il miracolo! Serve il miracolo! Dai, Marzò! Parco Dio! Alzati, alzati, imbecille! Ma perché? Porco Dio! Ma che fa, l'ubriaco! No, mi ha ammazzato con la faina! Di nuovo! Di nuovo con la faina! Mamma, solo la final, questo strumento! No, tu! Oh, la droia, ma che cazzo! Come si fa la final? Perché non posso farla? Ma come si fa? Dai, cazzo! La Livorno! La Livorno! Venga! Picchia la donna! Picchia la donna! Vai, vai! Johnny Depp contro Amber! Come si fa? Ho capito! Grande calcio ritardato! Certo, certo, è ovvio! È ovvio! Tutte le sa! Tutte le conosce tutte! Corco Dio! Dai, andiamo! Olè! Sei per te! Si gode! Oh! Elegance! No, che sta stronzata! Ma come si fa la presa! Ma che fa questo ebete? Bebete! Godo! Godo! E' un testo! Testa a me! E' un testo! 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 Ma guardate, porco Dio! Con un calcio leva tutta la vita, porco Dio! Ho capito! Lanza, ti! Lanza, ti! Ma c'è! No, non mi toccare! Ma perché mi salta questo stupido? Che cazzo salti? E' un testo! Mamma mia, mamma mia, mamma mia! Atroce, veramente! Sì, sì, massacralo questo pezzo di merda! Tiragli una secca in testa! Porco Dio! No, no! No, maestro! Non te credo, da! Che cesto di gioco! Porco Dio! A 60 frame come i poveri domandano! Tutti i nuovi funzionamenti di questo cazzo! Stavano in silenzio, maestro! Silenzio! Marzone, pre! Ma se? Ma se? 3 a 2! Ho metto la prima! Bravo, ma se ne devi vincere 3 a 2, però! No, è ne devi vincere 2! Ah, è riprendi! Meglio di 5, ti dico! Io ho sempre pensato che questo tipo di giochi si giocasse a caso! Sbaglio! No, no, qui, cioè io spammo a caso! Mi può dare un personaggio giocabile? No, devo fare il mio caso! No, no, grazie 19, grazie per il 2! No, no, ragazzi! No, ragazzi! No, ragazzi! No, ragazzi! No, ragazzi! No, ragazzi! Non mi ha dato il cazzo di... Ma come fai a tape che ti dà? Eh, perché se lì si vede! Madonna, ti ha dato il fantasma! Dio, beh! Alessio, grazie di 16! Ah, ma te non so neanche chi c'è! Ma hai visto già mo che ti mettono Eddie mo? Ma è sbroccato il fantasma! È sbroccato! Io c'ho un orso! Ma è solo un nerdi overwatch! No, mettici un po' di me! Gioca con gli occhi chiuse! Che cos'è sta roba? Porca Dio! Sono il re delle tigri! Porca Madonna! Non mi toccare! Non mi toccare! Porca Madonna! Non mi devi toccare! Ma te, ma questo era un R1 così a caso? Eh sì! Tutta la visione! Ma porco il Dio, ma fa cagare! Un orso! Ah, fa l'altra, fa l'elettricità coreina, ho capito, va bene! Ma non fa fare niente! Va bene, durate per i quattro! Senti, perché non so la dignità, ma a me che cazzo me ne frega! Ma non so le leve piccole! Ma che beffi da me! Se usano tutte le marze speciali! Ma a me che cazzo me ne frega! Spam! Spaccia! Spaccia il corso! Porco Dio, no! No, ma ammazzato! Sì, vabbè, ma che combo è? Eh, re, re, gioc! Ma leva, come si levano quelle cose? Ma che ne so, c'è scritto! Ah, ho capito, inizia! Tagli il pesce! Tagli il pesce! Tagli il pesce in bocca! Caglielo! Ma che cos'è? Ma che cos'è sta roba? Orco Dio! E si inventa a suo pazzo! E si inventa a suo pazzo! Ma come fanno questa mossa? La Livorno! E lo! Siamo vivi, siamo vivi! Ecco il carcetto! Pesce! Pesce! Ma batta, sto cazzo di pesce in buca! Il pesce è biondo! Fanno esplodere questo coglione! Lo sapevo che non avia di qua, brutto porco! Porca madonna, porca madonna, porca madonna! No, mi ha ammazzato! No, mi ha ucciso, ragazzi! Avevo cliccato! Avevo cliccato! I fantasmi, arrivano i fantasmi! Mi massacrano gli pugni, i fantasmi! Un calcio in bocca, devastante! Sì! 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 Prendi la calci! Prendi la calci! No, no, mi impanico e muoio! Mi impanico e muoio! È ovvio, è ovvio! Basta questa mossa di merda! Non ci voglio, credo! Sì! Ma sei! Ma sei! Sì! Ello! Il re delle tigri! Guarda che basta andando aia a indovinare una canzone con due secondi! Vola! 2 a 1, vai! Abbiamo fatto un punto, regà, ma almeno ce la siamo giocati! No! Ma scusami! Come sta andando a marzo? Aiuto! No, vuole usare la rage art! Col cazzo! Col cazzo, maestro! Ah, ma sono la roba bassa fa! Sto facendo un po' di show! Coglioni! Oddio, fang! No, ragazzi! Fang ammetting a lui! Ma gli attacchi bassi come si parano, porco Dio! È gioco in 3D! Porco Dio, non capiscono un cazzo! Dai, uccidilo! No, come mi sei liberato! Ma quant'è te non che esco, sto coglione! Oh, la smetti! Ma ero un t... Oh! Stava a funzionare, ma che vuoi? Ma da che si inventa, sto pazzo? Ma è un fenomeno! ECCOLO! ECCOLO! Maestro! Vai, vai! No, non puoi attaccare quelle gatti! Mi dite come ti parano quelle basse, porco Dio! Vai, maestro! Ma la porre se stanno le vedi, se le uso, porco Dio! Vieni, vieni! Io non mi fai... No, 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 no! Ti prego, no! Vieni qua! Io non mi muovo! Vieni qua, maestro! Dai, io non vengo lì! Io neanche! Degli altri! No, no! Ma che fa? No, no, no! Io non vengo! Nello! No, 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 no! Ho capito! Un fenomeno! Ui! Cazzo! L'alimono! No, no, no! L'alimono! 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 Va! Va! Non lo metti lì! Porco di Dio! Fatemi capire! Perdi... Perdi perché perdi te! Vabbè, ma le macchina sto giapponese, so, vedi! Due vittori! Due vittori! Vabbè, due vittori e quattro! Gianmarco, come sei messo? Ah, sì, sì, sì! Vado, vado! C'è stesso a crede! Dai! Dai, dai! Con l'orso di merda! Non può darmi un'altra volta un PG di... Cos'è? Oggi ho i giapponesi che fanno i roba delle menaste! Ragazzi! Asunca! Chi cazzo è Asunca? Go! Pucco Dio! Mamma mia, il pesce con Asunca! Lo sapevo! Lo sapevo! Lo sapevo! Il calcio! Eccoci qua! Oh! Che te stanno inventando? Oddio! Il fenomeno! Eh, non puoi fare niente! No, no, io non lo so! Oddio! Oh! Non puoi un cazzo! Asunca! Grado! Effect! De... Ma che cazzo di quello che ho fatto? Ma che cazzo di quello che ho fatto? Ma che cazzo di quello che ho fatto? Un fenomeno! Maga su me, mia franga! Mo' gli deve da panda! Mo' gli deve da panda! Mo' gli deve da un caffale! Gli deve ammollare il panda! Gli deve ammollare! Vediamo chi ci dà! Oh! Amicine! No, magari! Jack Occhio! No, ragazzi! Ma cazzo di bocca! Ma cazzo di bocca! Ma cazzo di bocca! Ma cazzo di bocca! 18 persone mani dato Steve! No, Zafira! Ma chi è? No, pepsi che se non starite! Sì, vaffanculo! Il maestro mi ha fatto due combo! Ma ha tolto metà vita con sto coso! Questa è un dramma, ragazzi! Guarda! Andiamo tivi! Aaaaaaah! Andiamo! Ma è impossibile! Vabbè, ragazzi! Ma che è? Oh! Bello! Puttarella di merda, porco Dio! Questo non dai cacci! No, no! Che cazzo vuoi? Ma vai via! Vai via schifosa! Bello! 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 Mamma mia, ragazzi! Che gioco per minorenni, porco Dio! Ma non dai calci cero e lui non ha i calci bassi! No, non può farmi tutto sto danno! Ah, la sa memoria! Ma non è vero! Ma guarda come stai, steppa! È rotto sto cyborg! Ah, ragazzi! Sasuke! Ho capito! Ah, il bastardo! Che pezzo di merda! Sa che non è so farà, porco Dio! Sì, vabbè! Guarda che roba, oh! Ti prego, dimmi che la prende! Mena, mena! Picchiala, picchiala! Bello! Good night! Porco Dio! Aia! Ste cazzo le mosse che ne fa che fanno il corpo pesante e poi un altro corpo dopo, zio porco! Dappo lì! Porco Dio! Sto coso porco Dio picchia come un trattore! Incredibile! Palma! Incredibile! Due combo spaccati da vita, sto robo! Già cotto devastante! Bellissimo! Vai! 2-1, ragazzi! Per il maestro! Ah no, per me che cazzo! Sì, ma il GASPERI 3 è Luke, il GASPERI 3 sta proverso il GASPERI 4! Mi hanno dato male! Ma che cazzo è sta merda, porco Dio! Ma che è diventato Naruto Ultimate Ninja Storm! Ma dai, Dio me! ELEGOW! Ma che personaggio è? Dio porco Dering! Ma è orribile! Ah, ok! Contro Warung! No, mi prende! Che cazzata! Yeah! Per il GASPERI 6, bentornato! Sparca la nuora con i pugni, ok! Eh certo, io mica mi sono parato! Deppa! Ma... Continua a pararmi! Eh non puoi, non puoi, non puoi! Certo! No, non l'ho fatta! Non l'ho fatta! Non l'ho fatta! Non l'ho premuto! Dai, è close! Ma che me paro a fare? Che cosa mi paro a fare? Sì, ma che personaggio è? Ma che cos'è? Ma che cos'è? Ma non lo so! Non so come si gioca! Vigo, grazie per il 3! Zappina! Tutto bene! Dai, stai zitto, Black! Non per i coglioni! Oh, parti, imbecille! Porco Dio, frate! Se non mi dava Steve, ma mi dava un altro, ma potevo giocare, secondo me! The Fox! L'ultimo! Porco Dio! E come sta andando, invece, tra il Maestro e il Masseo? Vai nell'altra stanza, Jammoor! Vai su! Ma te li puoi vedere? No! In teoria, adesso che è iniziata... Ma non è passo! Ma quanti ne avete viste? Vinto? Eh, quanto state? Eh, 2-1 per l'uco! 2-1 per il Masseo e adesso, mo, quanto state? 1-0 per lui! Però Masseo, te la vai a giocare in finale col Fazzone! Cioè... Marzò, vai! Eh, comunque, Fazzò, Fazzò, allai di mercello! Perché letteralmente il mio personaggio non dà i calci bassi, eh! Cioè, quindi non mi dovevo avvicinare di più perché dovevo itta col pugno! Un tumore! Ma non si protegge! Sei stato sfortunato! Ma non si protegge! Per gioco, grazie per i 2, F, grazie per i 3! No, no, grazie per i 30! Thank you, mo! Ragazzi, stiamo a aspettare un attimino perché se il Masseo adesso vince va in finale contro il Fazzone! E tanto li so giocare... Cioè, per dire, non è manco che ho trollato chissà quanto, eh! Cioè, io a parte il PG mio, io l'alti non li so! Forse un altro ne so giocare un pochino... Oh, non posso fare niente, non posso fare un cazzo! Per il resto stavo a giocare con me, c'è Giammo, spammando a casa! Eh! Letteralmente! Ah, eh certo! Eeeh... Torneo siamo 2-1 per il Marseo Gianmarco! Warang! Distruggilo! Distruggilo di calci, Sanji! Vai! Non c'è la cosa, se non muore! Porco diere, il creatore! O vada più a pittore! Ma che ricerche è che non muore! Ma si, si apre... Si apre la stream del Marseo al volo! Ti giuro veramente, però al dubbio che vergogna! Ma Marseo, mena, mena! Oddio, te la stai a portare a casa con Warang, eh? Eh, ma l'aveste data a me, Warang, zio porco! Warang! Vola, vola, vola! Picchialo, picchialo, Paul! Picchialo! Mamma mia, guarda il Marseo è un fenomeno! Ah, mamma mia, fa zon bocca all'uvo! Ti spammano R1, ti spammano! C'è L1, quello che è! Non fa niente, oh! Porco Dio, mi ha preso! Ma il maestro, poverino, non sapeva manco che c'era tipo la Rage Art, Rage Drive! No, la Rage Art! Me l'ha fatta sempre! Adesso mi sciò! Ma come fa la sua Rage Art a togliermi così tanto? Io gli ho tolto un... Ma se, ma se, ma se! Ma se, ma se! Un calcio! Ma se, un calcio! Un calcio! Eh, io, allora, si parla andando indietro, io stavo andando indietro! Porco Dio, quant'uomo i giapponesi! Meno male che esistono, dai! Dai, dai, dai! Viamo, cazzo! Signori! Il maestro, ha vinto il maestro! Scrive! La puoi scrivere! Puoi scrivere la storia, Masse! Allora, se siete state così, vi expecto il game, eh! Ok! Mamma mia, ragazzi! Contro il fazzone! Ma arrivederci! Arrivederci! Quindi devo rimanere in A e premete pronto! Non vedete per manchianze! Ma se, ma se, ma se, te lo puoi fa! Te lo puoi fa! Te fedi de me! Te lo puoi fa! A Zucena son morto! Oh no, tu trasta! Tu trasta! Lel! Leo, grazie per i 22! Buonasera! Reng, 123.000, cazzi! Rank di sborrata! Allora, ti do un po' la figa se mi fai vincere, dai! Un po' di figa? Ah, ma sta con gli aiuti attivi, il brother! Ma cosa devo fare? Non so neanche cosa sia l'aiuto attivo! Fa da solo robe? Lo faccio con! Ah, ecco qua! Ok, perfetto! Ok, non posso più muovermi! Non mi posso più muovere! Un grande! Non mi posso più muovere! Impossibile muoversi! Giusto così! Scala muro! Allora, Gasperi 3, bentornato! Ah, certo! Non te butta giù, ma se! Non te butta giù, sì! Non te butta giù! Non te butta giù! Non te butta giù! Non te butta giù! Non ti devi buttare giù! Ragazzi, il tagone è l'unico che ci gioca! È normale! Oh, puoi fare il tuo Gioquam con le Build, eh? Oddio, ha capito che può parare basso! No, lo facevo anche prima! No, ma come mi prende? Bravo, bravo, ma se! Non gli farò mai del male! Bravo! Guarda! Pum! Picchialo, picchialo, picchialo! Eh! Mamma mia, che figa! Xiao Juzio, porco! Sì, ciao! Sì, vabbè! Ma cos'è? Ha tirato fuori il nunciato, Bruce Lee! Ma è un dragone! Ma è uscito un drago! Non era una... Link, grazie per i 16! Bravo, ma se! Così ti ricontinua pure con R1, poi! Bravo! E lui sa che... Eccoci qua! Picchietta sulla cappella cinese! Picchietta, picchietta! No, vabbè, ma io esiste da prima! Questa puttana non fa cazzo! Porco Dio! Questa puttana mi vuole vedere morto, ma questa puttana non sa che sono già morto! Bravo, ma se vedi, vedi! Eeeh, ma l'ha parato! Sei già morto e non hai più niente da perdere! Dio, che blocchia! Non hai più niente da perdere! Bravo! Perché fai quella cazzo di cosa al contrario? Ma comunque... Ma vantterà, cazzo è il culo! Ma perché sembra... Gliotta di merda, se ti vedo per strada, sparo in testa! Cogliona! Gli ocani inutili, troia, Dio boia! Ma zò, c'è lo stesso fisico dell'ho? Non può essere. Non può essere. Bomba! Ah, è, mi piacere più Devil Jim, bro! È comunque una donna, cioè, nel senso. Non puoi, dite, se te becco per strada, ti sparo in testa, Massè. Premete R2, Giamma, non è che cambia! R2! R2, sì, così vi mette su... Che non vi mette su. Due vittorie. Ma come due vittorie? Massè, 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 devi stare nel bing. Devi stare... Sto parlando di... Dammi qualcosa. Dammi qualcosa. Basta! Basta! Ma basta, sta cazzo di Reina! Come si fa questa mossa che ha appena fatto il fazzone? Che saprà sicuramente counterarmi. Mi ti ha dato Marciallo. Come si fa, porco di... Cerchio basso, cerchio. Cerchio basso? Cerchio. Fortuna. Grazie, ciao. Grazie, ciao, Adilus. Oh, Dio, Dio, Dio. Porco Dio! Ma scusami, ma di nuovo lo stesso. Eh, ma l'ha dato al Masseo stavolta. Ah, ok. Masseo è forte con i calci, eh. Oh, no. Bravo, bravo. Bravissimo! Ma sei superato! Porco Dio! Puttana del cazzo! Di merda! No, non ti devi far prendere dalla voglia di menare. Non ti far prendere. Lo devi parare il fazzone. Lo devi anche parare. Un po' e un po'. Sta puttana! No, Dio Khan. Guarda che troia. R2, R2, R2. Marcia. L'ho già fatto. Eh, olè! Calcio al contrario! Calcio volante! Non ho neanche il tempo di cominciare questa merda! Sì, vabbè, ragazzi. Non ti buttare giù, Masseo. Non ti buttare giù. Nessuno vede se utilizzi gli aiuti. Ma non so come si faccia a usare gli aiuti. L1 e poi utilizzi tutti i tasti. È una cosa che... Cos'è L1 e poi utilizzi tutti i tasti? X indietro avanti! Potete dirmi quello che volete fare! Non so che cazzo state parlando! Va bene, ok. Non la so usare, eh. Porco Dio! Ma guarda che... Ma guarda che combo che ha fatto il fazzone! Questa è la predefinita da 11 corpi dei personaggi, porco Dio! Grissimbo, grissimbo, grissimbo... A uscire Ali Kellogg's! Grazie per le 5! Sesso, principessa, porco Dio! Sì, 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 0. Ma no! Dai, menala, menala! Spacca di le ossa, Dio, porco! Spacca di le ossa, Dio, e sto gli a chi! Tira fuori il lunciaku, porco Dio! La ciccio gamersplash, bellissima! Siamo vivi! Non siamo vivi, eh? Non siamo mai vivi! Non siamo vivi! You lose! Già, c'è la clip sopra, ma... Eccoci qua! Impossibile! È 2-0! Voleggiamo! Poi io stavo 2-0 e sono arrivato 2-2 e mezzo e lo stavo pure per battere! Devi stare nel bing, devi stare! Ma dobbiamo farne un'altra? A 3, a 3! Best of 5 va a 3! Vedo, Zene, vinto, bentornale, c'era! A beh, ma tu ci hai giocato, già muoio! Io non ci gioco dalla Play 1 stanotte! Ah, o si sta giocando le chiavi di cazzo! E Zene non ho fatto manco quella! Non ho fatto, ma è un buon problema! Grazie per le 5, che fai bene! Le, grazie per le 5, che fai bene! Benvenuti! Dai, 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 dai! Troppo bello, c'è la buia! No, 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 no! Grazie al caso! Non ho mai giocato! Imbecille! Jack 8, no! Ma s'aggirà? Ma Jack 8 non giocava con Murray da vuoto! Mamma mia, cazzo! Sì! Cazzoia! Sì, vabbè, questo spara! Questo fa tanto danno! Fa veramente tanto danno! Però è lento! Bravo, ma se è! Bravo! Oh, porco Dio! Ma che cazzo è diventato! Eeeh, Raffaeleau è diventato! Per un attimo! Ma che fa? Fatti rispettare, porca Madonna! Ma ti pare che existia un robot! Porco Dio, ma che tiri! Ma che è? Neuralink di Elon Musk! Che cos'è? Neuralink! Bravo, ma se è! Ah, ma se è! Neuralink! Ma perché Fazzone è un amante del tè? Ma che cazzo è? Ma amante del tè io, capo? Ma basta! Lo vedi, ma se è! Bravo, bravo! Perché non l'ha portato su? Bravo! Il karate! Porco Dio, lo stai uccidendo! No, no, il karate! No, mi palleggia! No! Fermati! Fermati, gomlino! Guardi! Eh, ho fatto una cazzata! Ho fatto cazzata! Ricordo da R2 nel caso! Questa mossa qua! Togli metà vita a questa cazzata! Togli metà vita a quella roba lì! Ma che è un reattore nucleare, Char? Posso del braccio, sto cristiano! Eh, pensa a una mitragliatrice! Ma che fa? Oh, Ax, sei stupido giapponese! Ti ha rinnegato la sua nazionalità tra... Attenzione, attenzione! No, l'ha rinnegata veramente nella storia! Hai rotto il cazzo con sto pugno del cazzo! Porco Dio, fazzoni di merda! Che coglioni! Ma vedi? Ma c'hai la bloodhitter, oh! Ma c'hai il lifesteal! Dai, ciuccialo! Niente! Ma se, cosa è successo? Ce l'hai, ma se, ce l'hai! È il meteorite, è il meteorite! No, eh, stai ruttando il Vesuvio! No! Oh, l'è! Sì, ma se, come prima! Questo è... Come prima! È un balcone di merda, il mio cazzo! Come prima, elettricità, ma... Bravo! Bravo! Sì, sto cazzo! Mi ha fatto esplodere un geyser di fuoco nel culo! Usa gli aiuti, ma se, ma che ti frega! Non so, cosa su... Cos'è l'aiuto? Vabbè, vabbè, gioca, gioca, gioca! Che cosa vuol dire? La vinci, la vinci! La vinci! La vinci, per l'amor del Dio sacro! La vinci, la domini! Sono matto! Attento che ti vuoi palleggiare, l'ho capito io! Ma vabbè, dai, ragazzi! Ma con la spallata e Patrick vienrà! Ma poi guarda che fa la esultanza del gorilla! Ma che è? Ragazzi, ma... È impossibile! Andi, Yoshimitsu! Ho provato a fare... L'unica cosa che sapevo con Jack era il palleggio e niente, rip! 3-2 con me! 3-0 con il Masseo! Giammo, prima che chiudi il gioco! Sì! Ti posso far vedere una roba! Che mi vuoi far vedere? Eh, Masseo, metti i premi R2! Entra, Giammo! Sì! Non mi hai visto, pazzo scatenato! Sacca, cazzo di 57! Ti faccio vedere il mio main! Mancano esattamente... 8 minuti! Ti faccio vedere la mia main! Azucena Romanista! Ma come Azucena? Ah, gli hai fatto tutto il vestito! Gli hai fatto? Ti devo far vedere Azucena Romanista e una mossa di Azucena! Che secondo me ti piacerà molto! Azucena! Jack and Jones mi ha consigliato! Ammazza che figa, oh! E mi parla da solo! Eh, devo giocare, eh? Sì, sì! Ah, ok! Se prendi il cazzo col main si dà il punto a noi, eh! Avverto! Va bene! Ah, è bello, Giammo! Eh, porco Dio, eh! No, l'hai presa sulla figa qua, però! Bello! Distruggilo! Bello! Eh, adesso parte con queste cagate! Exorciste! Bello! Da te che intrezio, porco! Sto doppio cazzo! Bello! Bellissimo! Adesso si arrabbia! Senti, il fazione è andato in gabbo mode! No, no! Sto chillando! Yeah! Uii! Aia, aia! Ehi, ehi, ehi! Madonna, il caffè! Il caffè te l'ha servito nella tazza d'argento! Eh, niente! Ma che cazzo è? È il caffè, ragazzi! Sì, ma perché il fazione ha un frame di vantaggio all'inizio, capito? Comincia a dai cagli ai pugni e va prima, entra prima! Ma come viene da quel palmo? Come si muove la puttana! Quale palmo, sberline! Bello! Ma allora li tira i pugni, sto coglione! Non è pugnazzi il brother! Bello sto calcio! Eh, a sto pugno! Ma che fa... Perché gli vuole dare... Ma guarda, che cosa t'ha fatto? No, sì! Il merda! Porco Dio, mi hai tirato a me quel pugno sulla piena, mi catapulto proprio! Sì, vabbè, impossibile, ragazzi! Ma ora come ti prende per il culo? Sta troia! Uccidila! Che rincoglionito, porco Dio! Dai, porco Dio! Porco Dio! Scabroso, ma come? Sì, no, ma poi tanto il marzio non ha pressa. Oh, che è sta vaga? Ok, ti ha bloccato tutto! Vai, vai! Bro, che cazzo è? Le finte! Belle le finte! Eh, sta la gha, sta la gha! Ragazzi, ma che sosti! Andre, grazie di tre, bentornato! Ma basta, porco Dio! Ma si muove tutta storta! Terto! Duce! Ha detto Duce! Eh sì, è quello che lo ho fatto in Dio! È quello che lo ho fatto in Dio, eh! L'ho sentito! L'hai ucciso con il Duce, l'hai ucciso! Cazzo, ma Duce! Sì, dice Duce! Dice Dulce, è vero il padre che dice Duce! Eh, poi deve lasciare la firma sulla telecamera! Ma vaffanculo, chiudi l'applicazione! No, è incredibile! 2 a 2! Quando il Maceo ancora davanti a sé, un'ora e mezza di torneo! Dai! No, ma è finito mo! È finito! È letteralmente finito, zi, praticamente! Come roba! Bing Schilling! Vivo! Sì, abbandonare la sessione! Era un po' scontato! Era un po' scontato! Lo si sapeva! Era ovvio, sì sì sì! Lo si sapeva! Non per questo ci diamo giù! È stato più equilibrato comunque dei tornei di Peggle! Sì! Sì! Lo si sapeva! Ma non per questo! Ci buttiamo giù, boys! No, ma non per questo!